Carlo Masci, Pescara, i vostri progetti proprio per declinare territorialmente quanto abbiamo detto. Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti, un ringraziamento a Lanci per organizzare queste iniziative utilissime per tutti quanti noi sindaci dei comuni italiani. PNRR è stata ed è una grande opportunità per tutti quanti, per un comune come Pescara che è un comune che da dieci anni è in piano di rientro è stata un'opportunità maggiore perché noi non potevamo fare mutui, avevamo difficoltà oggettive a poter avviare cantieri in città se non con fondi europei o nazionali. Il PNRR ci ha permesso di fare investimenti rilevanti, oggi a Pescara ci sono circa 120 milioni di euro di lavoro in corso che riguardano la mobilità, che riguardano l'efficientamento energetico, che riguardano tutto ciò che interessa ai cittadini. Il tema del PNRR è un tema che diventa anche culturale nel momento in cui i cittadini vedono tanti lavori in corso che creano disagi al territorio ma che in prospettiva danno vantaggi incredibili. Io sono un sindaco che è stato rieletto nell'ultima tornata elettorale, ho affrontato una campagna elettorale con molti cittadini che contestavano i lavori in corso, evidentemente però c'erano più cittadini che avevano capito che questi lavori servivano a migliorare la città e quindi ho avuto l'opportunità di amministrare per i prossimi cinque anni la mia città che si sta totalmente trasformando, per esempio sugli edifici pubblici. Noi negli edifici pubblici abbiamo fatto investimenti per circa 20 milioni di euro che ci hanno permesso di realizzare sia l'efficientamento energetico dovuto al cambio degli infissi, ai cappotti ma anche con la realizzazione di impianti fotovoltaici in tutti gli edifici con un megawatt di energia prodotto che ci ha permesso di realizzare e mettere in campo una CR, una comunità energetica che andrà a vantaggio dei cittadini perché il risparmio energetico che ci sarà verrà messo a disposizione della comunità pescarese con interventi mirati per esempio visto che prima si parlava di mobilità e di autobus, anche noi stiamo ovviamente rinnovando la flotta con autobus totalmente elettrici, entro l'anno prossimo almeno il 50% della nostra flotta sarà tutta quanta elettrica ma questi risparmi che otterremo attraverso la CER ci permetteranno di dare vantaggi ai cittadini per esempio agli studenti o alle persone anziane che potranno soffrire del mezzo pubblico a costi bassissimi per incrementare l'utilizzo del mezzo pubblico, è un obiettivo che noi stiamo cogliendo e vogliamo cogliere proprio perché il PNRR deve far toccare con mano ai cittadini questi vantaggi perché il tema culturale non è indifferente perché ogni volta che c'è un cambiamento i cittadini parlano di cambiamento però lo accettano con grande difficoltà perché cambiare le abitudini non è semplice e allora noi siamo partiti anche dalle scuole, noi facciamo attività all'interno delle scuole corsi di sostenibilità ambientale per i nostri ragazzi a Pescara 20.000 ragazzi fanno corsi di sostenibilità ambientale in modo tale che possano imparare da subito come bisogna approcciarsi sul percorso della sostenibilità ambientale e della transizione energetica che sarà il leitmotiv per i prossimi anni così come abbiamo cambiato 22.000 punti luce nella nostra città li abbiamo trasformati a LED per avere un risparmio energetico di diversi milioni di euro in prospettiva perché oggi più che mai dobbiamo puntare al risparmio energetico e ci permetterà di dare le risposte anche a livello nazionale così come sulla mobilità stiamo realizzando una filovia che collega Montesilvano a Pescara stiamo anche realizzando una fusione, la più grande fusione d'Europa che coinvolgerà tre comuni Pescara, Montesilvano e Spoltore per avere una città di 200.000 abitanti che dovrà parlare un'unica lingua e questa lingua sarà proprio quella che riguarderà la transizione energetica così come con la Commissione europea siamo stati i primi in Europa a fare patti local green deal con aziende del territorio attraverso Confindustria, attraverso la Camera di Commercio attraverso la Confprofessioni che ci permetterà di estendere i vantaggi della comunità energetica a tutto il territorio proprio attraverso le interlocuzioni che abbiamo con le associazioni di categoria questa è Pescara in questo momento con una rivoluzione digitale e tecnologica legata alla transizione energetica che proseguirà sicuramente fino al 2026 ma ritengo anche oltre perché oramai l'obiettivo che noi dobbiamo cogliere è quello di risparmiare totalmente l'energia attraverso questi interventi che ci permetteranno certamente di raggiungere risultati che erano impensabili fino a qualche anno fa Grazie, grazie Masci